In Francia in vigore nuove restrizioni che estendono i luoghi pubblici a cui è possibile accedere solo se in possesso del cosiddetto green sanité. Già dal 21 di luglio per i cittadini maggiorenni era necessario avere il certificato per accedere a musei, cinema, teatri e parchi di divertimento. Ora il certificato è obbligatorio anche per bar e ristoranti, anche all'aperto, per viaggiare su treni e bus a lunga percorrenza e sugli aerei che volino all'interno del paese, dal 30 di settembre è steso anche ai minori tra i 12 e i 17 anni.